Ciao e benvenuti nella magica atmosfera del salottino rosa. Oggi creiamo insieme con la tecnica wire, però guardate è per tutti questa tecnica, questo lavoro, un pendente nello stile art deco, diciamo transizione tra art nouveau e art deco, molto adatto soprattutto per cabochon che siano medio-grandi, più che quelli piccoli, perché non si riuscirebbe. Il vantaggio di questo tutorial sta nel fatto che utilizziamo un solo tipo di filo, lo 0,8 oppure un millimetro. È preferibile usare un half hard per questo tipo di lavori, cioè né troppo soffice né troppo duro come filo, però se non l'avete a disposizione come non l'avevo io, di questi tempi si sa, non c'è la possibilità di spaziare in tutti i siti internazionali per fare acquisti, allora usate tranquillamente quello che avete. Io avevo un filo soft e ho usato quello. Per il resto le solite pinze. Mi raccomando, io vi aspetto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto questo tutorial che ora segue e se volete diventare miei mecenati sapete come fare offrendomi un caffè. Tutto nell'info box, compresa la lista dei materiali. ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti